Ciao a tutti, vediamo in questo video il metodo per far attaccare a te un uomo e farlo sbiellare. In questo video ti insegnerò come far innamorare un uomo, come farlo impazzire d'amore per te. Prima però iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco ed iscriviti al nuovo canale Crescita Personale con Massimo Terramasco, del quale ti lascio il link qua sotto. Canale in cui tratto la crescita personale in amore, nella sessualità, nell'autorealizzazione. Un canale che secondo me ti potrà piacere e quindi ti suggerisco di iscriverti. E poi ti ricordo il mio seminario online che farò su questo canale martedì 5 maggio dalle 20.30 alle 23. Seminario sulla legge di attrazione per attraere nella tua vita ciò che vuoi. Per partecipare a questo seminario basta che vai sulla mia home page di questo canale Felicità Benessere, sulla home page e a fianco al tastino iscriviti, trovi il tastino abbonati, ti abboni e potrai scegliere come il tipo di abbonamento seminario online. E quindi partecipare al seminario martedì 5 maggio 2020. Allora, veniamo al tema, come fare, tra virgolette, attaccare un uomo a te. Allora, l'attaccamento in realtà non è innamoramento, però se tu lo fai attaccare, ottieni, diciamo, di pilotare la situazione. Questo è molto importante. Per generare attaccamento ci sono diverse modalità, diverse cose che puoi fare. Innanzitutto, tieni presente che un uomo, quando ti vede, sia esso un seduttore, che non sia un seduttore, diciamo, seriale, penserà soprattutto a volerti sedurre per venire a letto con te. E allora tu devi sfruttare queste caratteristiche. Intanto, se non volesse sedurti per venire a letto con te, un uomo, ebbè, vuol dire che c'è un vincolo, un impedimento. Potrebbe essere impegnato, potrebbe essere che non lo attira abbastanza. Quindi tu, come, diciamo, predisposizione naturale, devi esprimere al top la tua femminilità. Devi essere il più femminile possibile, in modo tale da poter attrarre il più, diciamo, velocemente possibile da un punto di vista fisico. E poi tieni presente questo, che per generare attaccamento, questi hanno fatto sperimenti su esperimenti, bisogna generare del, diciamo, un attaccamento ossessivo, bisogna generare dei rinforzi variabili nel tempo. Cioè, l'inforzo intermittente. Il rinforzo che cos'è? È un'azione in cui ti gratifico. Tu fai qualcosa e io ti gratifico. Oh, che bravo che sei stato, mi piaci, sono più disponibile nei tuoi confronti, eccetera. E invece alternarli a penalizzazioni. Penalizzazioni vuol dire non mi interessi, non ti considero, non ti prendo in considerazione, anzi, ti faccio battute acide. Ecco, questo deve avvenire in modo casuale, in modo tale che lui, come primo consiglio, quindi generare rinforzo intermittente. Mai rinforzo continuo, tutto gratificante, perché non otterresti niente, ma neanche tutto penalizzante, perché non otterresti niente lo stesso, andresti contro la sfera logica. Rinforzo intermittente, un po' di gratificazione, un po' di penalizzazione, in modo casuale, in modo tale che scatta la seconda fase, ti vede incomprensibile e quindi sentirà l'esigenza compulsiva, quindi dal di dentro, di capire qual è l'arcano, capire qual è il mistero e si attaccherà moltissimo. Quindi, prima cosa, diciamo, devi utilizzare il rinforzo intermittente. Seconda cosa, alimentare il fatto di essere incomprensibile. Cioè, incomprensibile cosa vuol dire? Di essere un mistero per lui, devi essere misterioso, devi sparire, saltuariamente, o poi ogni tanto riapparire. Ecco, questo genera un inizio a innescare, un movimento di attaccamento automatico. E poi, ovviamente, devi far vedere, questo è il terzo punto, che vivi la tua vita con passione. Cioè, non vivi una vita perché, diciamo, non hai nessuno e quindi non aspetti l'ora di trovare qualcuno. No, vivi la vita con passione, hai tanti corteggiatori, tutti che ti desiderano, tutti che ti vogliono, questo devi percepirlo, non detto che sia vero o meno. Però devi farglielo percepire attraverso i social, ad esempio. I social sono un ottimo strumento per far capire queste cose. Se tu inneschi questi meccanismi, questi tre meccanismi, quindi stimolazione fisica, diciamo, sorprenderlo, cioè nel senso che dare e togliere, dare e togliere, gratificare e penalizzare, gratificare e penalizzare, che ti fa risultare incomprensibile, poi fargli percepire attraverso i social che sei corteggiato, che vivi la vita con passione. Questo lo spingerà a cercarti in modo ossessivo, ossessivo, ossessionante, e tu potrai gestire la situazione. Tieni presente che poi più lo gratificherai, più l'ossessione passerà, perché l'ossessione nasce dall'incomprensione. Se una volta che magari vi siete messi assieme, tu cominci a diventare trasparente, come il mare cristallino, diciamo così, beh, allora dopo un po' si annoierà di te, quindi andrà a cercarsi un'altra che si comporterà nuovamente in questo modo. Quindi tieni presente questo, perché è molto importante. Lascia nei commenti la tua opinione, scrivi quello che pensi, se hai mai, diciamo, utilizzato metodologie simili per far innamorare un uomo, per far attaccare un uomo a te, per far sì che lui possa essere folle d'amore per te, provi un attaccamento per te. Se hai utilizzato strategie simili, se hai utilizzato modalità simili, in cui un uomo può innamorarsi di te, può coinvolgersi, può provare attaccamento. Cioè, che cosa fa generare attaccamenti in un uomo? Se tu hai provato, scrivelo nei commenti. Ti ricordo inoltre di seguirmi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco, iscriverti al mio nuovo canale Crescita Personale con Massimo Terramasco, nel quale ci sono, secondo me, dei video che potranno interessarti molto. E poi ti ricordo l'appuntamento online, col mio seminario online, martedì 5 maggio 2020, questo 5 maggio qua, dalle 20.30 alle 23 sul canale Felicità Benessere. Basta andare sulla home page, tastino abbonati, al tastino iscriviti, scegliere come organizzamento seminari online. Ciao a tutti!